ora Williams su di lui il top scorer di Lausanne Morris Marco Mlagian primo tiro dal campo e primo bersaglio da tre punti per Marco Mlagian e ora possesso per la Spinelli con Clanton che porta il blocco ad Unan la difesa qui non si intende e rimane l'uomo in più fa girare molto bene il pallone della Spinelli l'ultimo incontro sono fidati troppo e hanno lasciato libero e invece si mette subito in ritmo a tre punti ottima palla recuperata di Williams che consente a Unan di andare fino in fondo e conclude come meglio non poteva con la schiacciata per scaldare sempre per la Spinelli qui tiro in allontanamento dal mezzo angolo per il shake che non va e poi Lausanne si dimentica semplicemente di tornare in difesa ne approfitta Morris attacca il pitturato poi cerca Bachecolò con un buon passaggio schiacciato ma è altrettanto buona la difesa di Langford che lancia Purtroppo però Solcano finalizza perché la palla tocca la linea di fondo ancora 14 secondi a giocare in un tacco per Lausanne e Giorgio che tranquillamente fa un resto e tiro si Morris con il suo tritismo, fisicità, attacca il ferro forte come fa adesso Duan che pianta una bella schiacciata Lascia il possesso alla Spinelli, Clanton su di lui ascenso, arriva il raddoppio per scoraggiare Clanton a prendere la linea di fondo, Dujam Lajan ancora, Dujam Lajan sempre a segno tentati e anche messi a segno fino ad ora 0 su 2 per lui il rimbalzo però è di Clanton, Dujam Lajan da 8 metri, altra tripla per lui solo retina 4 su 4 il tentativo di recuperarlo nuovamente da parte di Morris può andare fino in fondo invece la Spinelli ultimi 7 secondi con Williams che prima rischia di perdere il pallone poi lo ritrova e va fino in fondo continua da dove aveva lasciato anche lui buona partita per il momento invece il miglior marcatore per Lausanna mentre arriva il primo canestro viene sempre scercato dalla difesa di Lausanna ottimo contropiede con bella schiacciata nell'eup di Morris doppia cifra per quanto riguarda i rimbalzi 13 all'interno della partita Casase dal palleggio palla che saltella sul primo ferro e poi finisce in fondo alla retina 4 falli però a questo punto potrebbe essere reinserito nuovo possesso per la Spinelli ora con Williams e Clanton che si dividono il lato sinistro della metà campo della Spinelli e poi va fino in fondo Williams trovando il canestro sempre più 12 ora Crawford completa il ribaltamento del lato Moren ritorna da Crawford che trova un ottimo passaggio per l'orologio può ancora sperare ascenso da tre punti segna e dunque ottiene il massimo e fa bene a sperare Lausanna finale ma siamo sul 93 86 vedremo se andrà a finire così non c'è fallo per Lausanna arriva l'ultimo tiro Dujan Blajan che sistema il punteggio sul 95 a 88 perché probabilmente è buono infatti è così l'ultimo grazie a tutti